Siamo qui oggi come Federazione Nazionale della Sicurezza, insieme a componenti degli altri corpi dello Stato che rispondono all'emergenza trasversale sanitaria e di soccorso pubblico o di pubblica sicurezza per denunciare i tempi di allungamento che si sono creati, si stanno verificando da quando è stato introdotto il nuovo sistema del numero unico 112. La nostra proposta, quella del fronte comune e quella dell'istituzione, sì di un numero unico, ma con operatori specifici della sicurezza, quindi sale operative interforze dove lo specifico, il poliziotto, il vigile del fuoco, l'addetto sanitario, il medico, l'infermiere professionale risponde direttamente alle proprie chiamate, evitando l'allungamento di due passaggi, di due chiamate, quella della sala operativa 112 e quella della sala operativa specifica di secondo livello. Grazie a tutti.